Raccontare la propria terra, le persone, i luoghi, le ansi, i sogni e le emozioni, il passato, il presente e il futuro della Sardegna attraverso le immagini. E' rivolto a tutti coloro abbiano voglia di farlo, racconti dall'isola, il concorso per videomaker promosso dal gruppo SAE Editori e SAE Sardegna, in collaborazione con l'Accademia di Belle Arti Mario Sironi di Sassari. L'obiettivo è reclutare chi, avendo una telecamera al posto degli occhi, possa mostrare il mondo da una prospettiva diversa, raccontando storie originali e creative che mettano in connessione le persone e il loro ambiente. Per partecipare non ci sono limiti di età, basta essere residenti in Sardegna. La data di scadenza per la presentazione dei video, della durata massima di 5 minuti, il 12 settembre e la partecipazione è gratuita. Si può anche partecipare sotto forma di team creativo di massimo due persone. I lavori pervenuti verranno valutati da una commissione di studenti dell'Accademia ed esperti indicati dai promotori. Una prima scrematura selezionerà 15 opere che verranno caricate sulla piattaforma YouTube della Nuova Sardegna e rilanciate sulle pagine social della testata. Le 5 che riceveranno più mi piace accederanno alla fase finale, nella quale verranno valutati dalla giuria di merito che decreterà il vincitore.